Ha vinto il Telegatto come migliore trasmissione dell'anno. Ha fatto cantare milioni di italiani. Dal 20 settembre su Italia 1 torna Karaoke. Tutti i giorni, da lunedì al sabato, un simpaticissimo fiorello vi farà cantare e divertire dalle più belle piazze d'Italia. Senza cantante! Dal 20 settembre alle 20 su Italia 1, canta anche tu con Fiorello e Karaoke. Sì o no, sì o no, sì o no.